Ciao Vergine, bentornato. Oggi è sabato, 2 novembre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Qual è il tuo numero oggi? Guarda fino alla fine del video per scoprirlo. Oroscopo Vergine. Novembre, ma sempre con Saturno contro? Passato ottobre inizia novembre, ma non c'è nulla di nuovo nel vostro cielo, ancora Saturno contro insieme a Nettuno, una fastidiosa e faticosa opposizione, mediata però dalla luna nuova con il sole e mercurio, tutti e tre in scorpione, segno acquatico in sestile, buon amico del vostro. Se l'antico Dio del tempo si ostina a tacere, aspettando che a parlarvi sia il suo silenzio, gli altri invece vi lanceranno dei segnali, attraverso un libro, uno spettacolo, una frase udita per caso passando in strada. Una pratica molto comune nell'antica Grecia, quando ci si recava apposta nella piazza del mercato per interpretare la prima frase che si sarebbe udita camminando tra la gente. In questo periodo di misteri e miracoli nulla avviene per caso, tutto vi può parlare, non solo le persone, anche l'ambiente, le nuvole, i cartelloni della pubblicità disseminati per strada, perciò mettetevi in ascolto. Fedeltà in amore, buona intesa e dialogo nella coppia. Uomo attraente, buono, fedele, generoso e sincero, che ispira simpatia e fiducia. Potrebbe essere l'innamorato, il marito, il partner, il fidanzato, l'amante perfetto. Obiettivi concreti raggiunti o raggiungibili, progetti interessanti che si realizzano. Stabilità grazie a un uomo che incontrerete e che vi darà sicurezza e aiuto. Aiuto da genitori e parenti, da superiori e da colleghi esperti e fidati. Piccoli disguidi. Diverbi con i parenti. Non perdere la pazienza. Fai soltanto ciò che ti fa piacere. Dedica più tempo al riposo e alla lettura. Concentrati di più su quello che stai facendo. Siate altruisti oggi, lasciate spazio agli altri e sacrificatevi per loro. Ogni sorriso donato oggi sarà ricambiato o moltiplicato. Giornata ideale per iniziare un corso di ballo, canto, pittura o scultura o dedicarsi a qualche interesse particolare. Quanta fretta oggi di concludere postivamente la giornata, purtroppo i pianeti non sono del tutto favorevoli. Cercate di pazientare e di restare sereni più che potete. Riflettete su quanto state facendo in campo sentimentale, Mercurio e Saturno vi invitano alla riflessione. A scoprire i vostri punti deboli per cui, a tratti, siete succubi di chi amate. Buone nuove sul fronte dell'amore, potreste realizzare qualche nuovo incontro interessante anche se vi conviene procedere comunque con i piedi di piombo. Ricordate che non è tutto oro ciò che luccica. Non arrenderti. Presto arriveranno notizie positive che ti faranno risollevare da una situazione poco piacevole. Giornata frizzante e iperattiva, Luna e Giove vi concedono tantissimi favori, ma cercate di ricambiare questa energia con tanta concretezza e senso pratico. La strada non potrà mai essere paineggiante, ma di sicuro sempre in leggera salita, ma non metteteci pure del vostro aumentando le difficoltà. Siate semplici e tirate dritto di forte a ogni persona che vorrebbe distrarvi nel vostro cammino. Vi assistono pianeti nel vostro segno e in scorpione e toro, rendendovi gioiosa questa giornata di festa di ogni santi 2024. In particolare la Luna e Plutone favoriscono la comunicazione tanto in ambito sociale e mondano quanto nel contesto familiare e privato. saprete sempre trovare le parole giuste per armonizzare egregiamente i contatti o per sapervi come comportare nelle informazioni da dare. Inoltre Urano, il vostro signore ideale, vi dota di verve, arguzia, capacità di farvi capire anche nelle situazioni più complicate. Sotto tiro di Saturno e Nettuno Oggi l'umore è tipicamente stagionale, perfetto per la commemorazione attuale, anche se non avete tombe da visitare e vi state godendo una bella escursione tra borghi medioevali o città ricche di storia e architettura. E allora dimenticatevelo il grillo parlante e il dio dei mari, proprio il genere di quelli interiori che di tanto in tanto travagliano la vostra vita di coppia o di relazione col mondo. Oggi però con la complicità del sole, della luna e di mercurio, tutti quanti in scorpione in se stile riuscite a metterci una pezza. Certo, i pensieri e i discorsi non sono allegri, ma profondi e interessanti, tornano in mente vecchi aneddoti di famiglia, oppure si parla di storia, di arte. Dominante il pensiero del passato, lezione fondamentale per tutti, da non dimenticare. Amore ed eros. Proprio non gira, il partner sfuggente e la famiglia presente solo a tratti, altrimenti ciascuno si fa la propria vita, più simile a un co-using di studenti universitari che ha un vero nucleo familiare di persone che hanno scelto di vivere insieme. Situazione ancora più marcata nei giorni festivi, meno male che la tradizione la mantengono i vecchi, con gli inviti di genitori e suoceri potrebbe essere piacevole un pranzetto come si deve, ma il condimento saranno gli inevitabili mugugni. Transiti complicati in amore. Dovrete portare pazienza se appartenete alla seconda decade del vostro segno. Venere in Sagittario e Saturno in Pesci possono temporaneamente bloccare alcune vostre iniziative di coppia. Chi di voi ha in programma di rassodare i rapporti, legalizzarli, o mettere decisamente dei punti definitivi, dovrà attingere alla virtù dell'attesa e della costanza. Il vostro carattere realistico troverà il modo per attrezzarsi e non trovarsi, di sicuro, impreparato. Lavoro e denaro. In casa il fai-da-te è fatto solo di parole, acquistate il manuale, gli utensili e i materiali, ma all'atto pratico vi smontate subito, mollando il colpo alla prima difficoltà. Avreste bisogno di un supporter, di qualcuno con le mani in pasta che vi insegni il Knovov, potreste chiamare l'amico esperto in falegnameria e pittura creativa su stoffa o vetro, ma malauguratamente ha deciso di trascorrere il ponte in un'altra città e con un sospiro di disappunto decidete di chiedere consiglio in famiglia, chissà come genitori e parenti ne sanno sempre una più del diavolo. Benessere. Quattro passi post-prandiali della salute, non sono solo scritti sui testi di medicina popolare del nord Europa, provateli anche voi alle latitudini sud, vi accorgerete che funzionano alla grande, soprattutto dopo il pranzone della suocera composto da piatti superconditi, paradisiaci sì, ma pesanti come un camion di mattoni. Lo stomaco ringrazierà per l'iniziativa. Per lei, il pensiero corre a una persona cara e lontana con la quale non vi sentite da tempo. Chi è stato il primo a interrompere i contatti? Un po' offese, un po' deluse, pensate di chiamare, ma poi tirate dritto. Dopotutto perché accedere dovete essere sempre voi? Per lui, una rottura vi pesa sul cuore, realizzate di essere stati precipitosi, facendo di un sassolino una montagna. Magari è tardi per rimediare, tuttavia un messaggio si può anche scrivere. Colore delle emozioni, verde petrolio. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8. Finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.